C'è un cin che entra, uno solo, non è un cin, è un papillon, non vedo fino a là. It's the first. Applausi signore, è il miglior veterano, chiediamo quanti anni ha. Ha otto anni e mezzo, fantastico, il miglior veterano è un papillon. Spero che tutte le razze italiane siano già nel pre-ring e il signor Fabrizio Larocca, sì, è lui che giudicherà questo raggruppamento delle nostre razze, immagino che sia nel pre-ring a visionare. Subito dopo le fotografie di questo veterano che si mantiene ancora fantasticamente bene, inizieremo con le razze italiane. Grazie. 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 Grazie.